I dolci di carnevale non sono solo buoni, ma sono anche abbastanza semplici da preparare. Ecco gli ingredienti e la ricetta passo per passo per cucinare le chiacchiere. Le chiacchiere è un dolce tradizionale, tra i più semplici. Do la dose per circa 200 grammi di farina, 50 grammi di zucchero, 2 uova e, a piacere, del rum, del mistrà o della grappa, dipende da due cucchiai. Si battono le uova con lo zucchero e il mistrà o il rum, si sbattono bene bene e poi si aggiungono nella fontana fatta con la farina, a quel punto si comincia a mescolare piano piano e si fa un impasto che deve essere più morbido e liscio, liscio o vellutato. A quel punto quando si è fatta si maneggia per circa 10 minuti e quando è pronto si divide l'impasto in quattro parti, si fanno quattro pallottoline e si avvolgono nel domopac e si tiene fermo per 10 minuti circa. Dopo 10 minuti si prende il mattarello e si fa una sfoglia per ogni pallina fatta, una sfoglia dello spessore di circa un millimetro, un millimetro, due millimetri massimo. A quel punto quando la sfoglia è fatta si prende questo attrezzo che è quello per fare anche i tortellini e si fanno delle striscioline larghe circa 2-3 centimetri e lunghe 5-6. e si pratica al centro di ogni fazzoletto che viene fatto, di ogni ritaglio che viene fatto una piccola incisione, nel frattempo si mette a soffriggere dell'olio e quando l'olio è pronto si gettano dentro le chiacchiere. Il tempo di cottura è brevissimo perché sono sottili e bisogna stare attenti che non bruciano praticamente. Circa un minuto, due minuti massimo sono pronte, si scolano, si mettono a asciugare nella carta paglia o carta da cucina e quando sono asciute si aggiunge un po' di zucchero a velo.